Storia della razza. L'iniziale fusione di diversi Gland Terrier, incluso lo Scotty, sotto il nome generale Schietterrier ha causato una certa confusione sulle origini della razza. È controverso se gli Schietterrier menzionati nei documenti dell'inizio del XVI secolo discendessero effettivamente dai predecessori degli Scotty o viceversa. Non c'è dubbio, tuttavia, che gli Scotty e il Vestigland White Terrier siano strettamente imparentati, entrambi loro antenati provenienti dalla zona di Black Mountain del Percire e dal Moro of Rannock. Gli Scotty eserano originariamente allevati per la caccia e il controllo dei parassiti nelle fattorie e per la caccia al tasso e alla volpe negli altopiani della Scozia. Le origini effettive della razza antica quanto lo Scottish Terrier sono poco chiare e non documentate. Le prime menzioni scritte di un cane simile a uno Scottish Terrier nella descrizione risalgono al 1436, quando Don Leslie li descrisse nel suo libro A History of Scotland 1436 al 1561. Duecento anni dopo, Sir Joshua Reynolds dipinse il ritratto di una giovane ragazza che accarezza un cane, esteriormente simile al moderno Scotty. Il re Giacomo VI di Scozia è stato un'importante figura storica nella storia dello Scottish Terrier. Nel XVII secolo, quando il re Giacomo VI divenne il primo James inglese, inviò sei Terrier in dono al monarca francese, che erano considerati i predecessori dello Scottish Terrier. Il suo amore e la sua ammirazione per questa razza hanno aumentato la loro popolarità in tutto il mondo. Molti scrittori che scrivono sui cani dopo l'inizio del XIX secolo sembrano concordare sul fatto che a quel tempo esistessero due varietà di Terrier nel Regno Unito. Il cosiddetto Terrier scozzese e il Terrier inglese a pelo liscio. Thomas Brown, in Biological Skeks and Autentic Anedotes About Dos, afferma che lo Scotterrier è certamente il più puro della razza, e il liscio inglese sembra essere stato ottenuto incrociandolo. Brown ha continuato a descrivere lo Scotterrier come basso, con un corpo muscoloso forte, gambe corte e robuste, una testa grande rispetto al corpo, e per lo più di colore sabioso o nero con peli lunghi arruffati e pelo ruvido. Sebbene l'immagine dello Scotterrier qui descritta sia generale piuttosto che specifica della razza, sostiene che i Terrier piccoli, duri e ruvidi furono creati nelle Eglan scozzesi all'inizio del XIX secolo per la caccia alla piccola selvaggina, una descrizione che condivide caratteristiche con quello che un tempo era conosciuto, come Aberdeen Terrier, ed è oggi conosciuto come Scottish Terrier. Inoltre, i dipinti di Sir Edwin Lanser, e una litografia del 1835 intitolata Scottish Terrier Working on a Pyramid in the West Eglans raffigurano Terrier del tipo Scotty, molto simili a quelli descritti nel primo Scottish Terrier Standard. Nel XIX secolo, c'erano molti Terrier nelle Eglan scozzesi, inclusa l'isola di Schier, originariamente conosciuti collettivamente come Terrier a pelo corto o Little Schier Terrier. Verso la fine del XIX secolo, fu deciso di separare questi Scottish Terrier e allevare pedigree puri e definire le razze. Originariamente, le razze erano divise in due categorie, Dandy Dynmon Terrier e Schier Terrier, questo non è lo Schier Terrier conosciuto oggi, ma il nome generico per un grande gruppo di Terrier con tratti diversi che si dice provengano dall'isola di Schier. Il 1860 Birmingham, Inghilterra Dovshaw è stato il primo ad offrire corsi per questi gruppi di Terrier. Hanno continuato a esibirsi in gruppi generici per diversi anni e questi gruppi includevano gli antenati dell'odierno Scottish Terrier. La storia documentata e lo sviluppo iniziale della razza, iniziarono alla fine del 1870 con l'avvento delle esposizioni canine. L'esposizione e la valutazione canina richiedevano il confronto con lo standard di razza, e quindi l'aspetto e il temperamento dello Scotie, furono registrati per la prima volta. Alla fine, gli Schier Terrier furono divisi nei cosiddetti Scottish Terrier, Schier Terrier, Westigland White Terrier e Cairn Terrier. Mentre i dilettanti hanno cercato di identificare e standardizzare la razza. Alla fine del XIX secolo lo Scottish Terrier era conosciuto con vari nomi. Higland, Cairn, Diehard e più spesso Aberdeen Terrier, così chiamato per il gran numero di cani nella zona, e perché Giorgia Damson di Aberdeen mostrava con successo i suoi cani negli anni 1870. Nel suo libro The New Scottish Terrier, Cindy Co. chiama Splinter il fondatore del moderno Scottish Terrier. Co. continua. Per qualche ragione, i primi allevatori hanno allevato questa femmina, praticamente escludendo tutti gli altri. Quando si è accoppiata con Tartan, ha prodotto Vorry, la madre di quattro campioni. Rambler, suo figlio di Bonaccord, divenne padre di due fondatori. I campioni dello spettacolo su entrambe le sponde dell'Atlantico provengono da Splinter e dai suoi produttori. Il primo standard di razza scritto è apparso in tepi. Turebukostos.lo standard descriveva la razza come grigia, grigia o tigrata, poiché il tipico scottienero non divenne di moda o popolare fino al XX gradi secolo. Nel 1881 fu fondato lo Scottish Terrier Club of England, che divenne il primo club dedicato alla razza. Il segretario dell'Udlov Club era responsabile della promozione della razza nelle parti meridionali del Regno Unito. Lo Scottish Terrier Club of Scotland fu fondato solo nel 1888, sette anni dopo il club inglese. Dopo la formazione dei club inglese e scozzese, ci furono diversi anni di disaccordo sullo standard ufficiale della razza. Il problema fu finalmente risolto nel 1930, risultando in uno standard rivisto basato su quattro cani dominanti. Questi quattro cani e i loro discendenti cambiarono l'aspetto dello scottie, in particolare la lunghezza della testa, la vicinanza al suolo, e la squadratura del corpo. Il loro successivo successo nel ring lo ha portato a diventare molto popolari tra il pubblico, e gli allevatori britannici. Pertanto, lo standard modificato ha completamente rivoluzionato la razza. Questo nuovo standard è stato successivamente riconosciuto dal Kennel Club of Great Britain intorno al 1930. Gli scotties furono introdotti in America nei primi anni del 1890, ma fu solo negli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale che la razza divenne popolare. L'American Scottish Terrier Club è stato fondato nel 1900, e lo standard è stato scritto nel 1925. Lo scotties terrier è stato riconosciuto dallo United Kennel Club nel 1934. Nel 1936, la scottie era la terza razza più popolare negli Stati Uniti. Sebbene non siano sempre rimasti in voga, continuano a godere di una popolarità costante con un ampio segmento di proprietari di cani in tutto il mondo. Lo scotties terrier è un vero terrier, la cui razza è stata portata alla sua forma moderna attraverso l'allevamento di razza a lungo termine. Il terrier scozzese è allevato nella Scozia occidentale e nelle vicine ebridi, dove è stato allevato per secoli e usato per uccidere piccoli predatori. Quando lo scott terrier apparve agli spettacoli britannici nella seconda metà del secolo scorso, attirò rapidamente molti fan e ammiratori entusiasti. Se lo merita. Questo è un terrier capriccioso, allegro, giocoso, amorevole società umana, interessato a tutto ciò che accade intorno a lui, tenuto come un cane decorativo, mantiene costantemente le sue qualità di caccia, in modo che possa essere usato sia come cane da tana che per il monitoraggio sulla superficie della terra. Purtroppo la moda a cui ha obbedito nel periodo tra le due guerre mondiali lo ha alienato dalla sua originaria vocazione venatoria, facendo di lui, prima di tutto, un cane da compagnia. Punti salienti e fatti interessanti. Lo scottish terrier fu riconosciuto dalla AKC nel 1885 insieme ad altre 14 razze. Lo scottish terrier è stato allevato in Scozia come feroce cacciatore di volpi e tassi. Il primo scottish registrato in America fu dache, nato il 15 settembre 1884. Aspetto? Forma generale. Lo scott terrier è un cane denso e fitto con zampe corte. La sua altezza rende facile lavorare sottoterra, nelle tane. Di regola, si comporta molto diffidente e raccolto e dà l'impressione di grande forza e attività. Ciò è accentuato dall'espressione degli occhi e dalla prontezza delle orecchie. La testa, data la sua piccola statura, sembra lunga. Il corpo è ricoperto di pelo lungo, stretto e ruvido. Il fisico generale, nonostante le zampe corte, fa dello scott terrier un cane molto mobile e vivace. I suoi movimenti sono leggeri e fluidi con movimenti degli arti corretti. Altezza algarrese e peso. Un cane di costituzione ideale nelle migliori condizioni da esposizione, dovrebbe pesare tra gli 8 e i 10 kg. Altezza algarrese da 25 a 28 cm. Coda. Di media lunghezza, grosso alla base, si assottiglia verso l'estremità. Il cane lo porta in posizione verticale o leggermente curvo. Copertura in lana. Lo scocca due tipi di pelo. Un sottopelo corto, spesso e morbido e un pelo di guardia spesso, duro e ruvido. Entrambi i tipi di pelo proteggono bene il cane dalle condizioni atmosferiche avverse. Vizi. Malocclusione. Troppi peli sulle orecchie, estremità arrotondate delle orecchie. Il pelo è ispido e riccio. Gli occhi sono chiari o allungati. Tratti distintivi del carattere. Lo scottish terrier è un cane carino, vivace, robusto, dal carattere deciso e persistente. Molti credono che gli scott terrier siano cani molto orgogliosi e testardi con il loro mondo interiore, e le loro esigenze. Tuttavia, questi terrier hanno davvero bisogno dell'amore dei loro proprietari. Gli scottish terrier vengono spesso definiti un grosso cane in un piccolo pacchetto perché, nonostante la loro piccola statura, hanno denti molto potenti e un collo. Impara molto bene, non abbaia senza motivo, anche se può difendersi da sola. Possiede un'enorme riserva di forza ed energia, si adatta perfettamente alla vita in città e in campagna. La lana protegge bene in qualsiasi condizione atmosferica. Ha bisogno di esercizio fisico regolare e lunghe passeggiate. Manutenzione e cura. Lo scottish terrier prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Gli scottish terrier richiedono una pulizia regolare. È una razza a due capelli con un pelo esterno duro, e un sottopelo spesso e morbido. Spazzolare e spazzolare settimanalmente eviterà che il pelo di scotti si aggrovigli e manterrà la tua pelle sana. Sono consentiti bagni periodici con uno shampoo idratante di qualità. Gli scottish terrier hanno bisogno di una buona passeggiata e di un buon momento. Hanno molta energia e deve essere spesa in parti. Gli scottish terrier fanno il miglior allenamento per 15 minuti alla volta. Sii creativo e non ripetere l'allenamento sempre allo stesso modo. Sono una razza di pensatori e possono annoiarsi. Puoi lanciare una palla, o un giocattolo per il quale correranno. Il loro soprannome è duro a morire e tutto ciò che devi fare, è giocare a rimorchiatore con il tuo giocattolo preferito per assicurarti che non si fermino, e si lasciano andare finché non ti fermi. Tutta questa attività li manterrà in buona forma e di buon umore. Questo li rende ottimi cani per una piccola casa o un appartamento. Salute. I terrier sono soggetti a molti tipi di cancro, in particolare il cancro del sangue, il cancro allo stomaco e alcuni altri. Gli studi hanno dimostrato che le donne di età superiore agli 11 anni hanno maggiori probabilità di sviluppare il cancro. In media, i terrier vivono fino a 13 anni. Prezzo e come acquistare correttamente. All'esame il cucciolo a due mesi di età appare grassoccio, nessuna secrezione da naso, occhi e orecchie, nessuna eruzione cutanea rossa sotto le ascele. Il pelo è pulito, la pelle è elastica. Gli indicatori principali sono un petto e una schiena larghi, una coda spessa alla base, gambe dritte forti. La testa a questa età è sproporzionatamente grande e larga. Il cucciolo corretto si muove dolcemente senza intrecciare le zampe. All'età di quattro mesi, è più muscoloso, con gambe più forti e zampe più forti. Il colore degli occhi sarà stabilito non prima di cinque mesi dopo. Un cucciolo soffice acquisirà una barba e baffi rigogliosi con l'età, e un cucciolo elegante diventerà semplicemente a pelo duro e facile da curare. I prezzi dei cuccioli vanno da 300 dollari a 1000 dollari. La cosa principale quando si sceglie un cucciolo è la sua salute. Lo Scottish Terrier è una delle razze di cani più coccolosi nonostante il suo passato selvaggio. Ora sono solo compagni divertenti, curiosi, molto attenti. Alcuni proprietari sottolineano in particolare la loro indipendenza, che avvicina gli Scottish Terrier ai gatti. Linea di fondo. Lo Scottish Terrier, popolarmente chiamato scottie, è una razza di cane. Originariamente una delle razze di terrier di montagna, che sono state raggruppate sotto il nome di Schietterrier, è una delle cinque razze di terrier originarie della Scozia, le altre quattro sono i moderni Schiet, Cairn, Dandy di Montevestigland White Terrier. È una razza indipendente e dura con un mantello esterno duro, e un sottopelo morbido e denso. Il primo conte di Dubarton chiamò la razza duro a morire. È una razza terrier piccola e distintiva che ha svolto molti ruoli nella cultura popolare. Sono appartenuti a molte celebrità, tra cui il trentaduesimo presidente degli Stati Uniti, Franklin Roosevelt, i cui scotti falla è incluso in una statua Washington DC insieme a Roosevelt. Sono anche noti per essere un elemento giocabile nel gioco da tavolo monopoli. Descritti come cani territoriali e arroganti, possono essere buoni cani da guardia e tendono ad essere molto fedeli alla loro famiglia. In termini di salute, gli scotti sterrier possono essere più inclini a disturbi emorragici, articolazioni, malattie autoimmuni, allergie e cancro rispetto ad altre razze canine, e c'è una condizione, che prende il nome dalla razza chiamata sequestro di scotti. Sono anche una delle razze canine di maggior successo alla mostra canina del Westminster Kennel Club, e recentemente sono diventate le migliori alla mostra canina del 2010. Kennel Club, e recentemente sono diventate le migliori alla mostra canina del 2010.